Sono di Roma, sono molto contento di essere venuto qui. Ho fatto quattro anni a Grosseto, bellissimi, dove ho passato dall'essere un titolare capitano anche di situazioni brutte. Ho cercato negli ultimi anni di affermarmi in questa gregoria, cercando di vincere anche il campionato. Non ci sono riuscito, sono venuto qua con la speranza di poterlo vincere qui, perché è una piazza, a quanto so, ho giocato anche contro, è sempre stata ambiziosa e che punta a vincere. Come dicevo due secondi fa, c'è poco da raccontare. Le mie qualità migliori credo che siano la velocità e la resistenza fisica, e anche l'uno contro uno, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Sono un terzino sinistro, o esterno dei cinque, sempre di sinistra, e ho fatto tutte le giovanili all'Inter. L'anno scorso ero a Prato fino a gennaio e poi sono andato a Savona, giocando con continuità. Sono venuto qui perché credo nel progetto e spero di poter aiutare la squadra e fare il meglio possibile. Sono un centrocampista che può giocare preferibilmente a destra, perché sono a destra, ma ho giocato anche a sinistra durante l'anno scorso. Arrivo dal Novara, ho giocato tra una trentina di partite e abbiamo vinto il campionato. Comunque spero di ripetere la cosa anche qua. Un po' da porta fortuna anche a questa cremonese. Speriamo, perché se mi porto dietro questa cosa del porta fortuna, poi ogni anno mi chiama qualcuno per iniziare il campionato. La battuta sul tuo cognome è assolutamente scontata, però vogliono sapere quanto sei forte. Ma non sa a me dirlo. Io penso solo a fare bene sul campo, a fare quello che ho sempre fatto fino adesso, che il lavoro è sempre quello che mi ha portato ai risultati, sia individuali che di squadra. Quindi penso solo a lavorare, impegnarmi e migliorarmi. E cosa ti hanno raccontato di Cremona? Beh, io ho parlato con Nick Brem, che si sta benissimo, è una città a misura d'uomo, dove si vive bene fuori e dentro il campo. La società ti fa stare bene in campo e la città fa il resto. Quindi sono venuto con molto entusiasmo e ero molto contento quando ho firmato. Ho già trovato casa a Cremona, bella città, tranquilla, si sta bene, quindi speriamo di fare bene anche con la squadra e basta. I tuoi obiettivi personali? Non li dico perché sono esageratamente scaramantico, quindi mi dispiace per quelli che stanno guardando, però non li rivelo. Cosa conoscevi della Cremonese? Non conoscevo molto, sapevo solo che era una buona società con delle basi e quindi la squadra è forte, l'interesse verso di me c'è stato, quindi non ho esitato un attimo a venire. Io penso che gli obiettivi personali arrivino dopo quelli di squadra, quindi sono una conseguenza del lavoro di squadra. Io sono qui per mettermi a disposizione della squadra, ripetere, cercare di migliorare quello che ho fatto io l'anno scorso, anche a livello di squadra ovviamente e poi saranno comunque quello che avremmo seminato, quello che raccoglieremo sarà una conseguenza.